ciao a tutti buon martedì 14 maggio 2024 sono le 12 e 54 mentre sto registrando andiamo su quotescomesse calcio.com oggi ho analizzato i numeri di girona villa real il dato più interessante è che c'è un 89 per cento di segni 2 nei precedenti storici e badate bene che non stiamo parlando di poche partite bensì di molti incontri perché come vedete la lista è molto lunga però c'è questo 89 per cento di segni 2 bisognerà vedere se si interromperà la serie dei due oppure se si andrà a interrompere la serie dei segni 1 del girona in casa perché il girona in casa come potete vedere va alla grande e segna moltissimo perché a parte un incontro dove ha fatto tra virgolette come ho scritto nell'articolo solo due reti ha fatto poi due volte tre reti e nelle ultime due addirittura quattro reti tra l'altro sto notando adesso ha fatto quattro reti al barcelona quindi al barcelona per quanto riguarda villa real in trasferta così c'è via real diciamo in italiano villa real allora che cosa vediamo vediamo che ha una situazione un po diciamo arlecchino non c'è una costante perde vince pareggia fa un po di tutto possiamo dire quando perde perde in maniera abbondante se subisce sempre le reti e comunque a parte questo 40 subito in coppa nel col marsiglia poi dopo ha sempre realizzato reti e quasi sempre almeno due reti perché 223 e qui sono un 11 per quanto riguarda i grafici c'è questo dato un po particolare dell'uno che prima è schizzato molto in alto quasi a quota 2 e poi da 1 65 fino a 1 e 94 quindi molto più alto e poi dopo si è stabilizzato intorno a 176 175 questo è quindi l'analisi di questo incontro ricordo che non faccio pronostici perché sennò mi chiedete pronostici la mattina o la sera però potete utilizzare pronostico.it per fare i pronostici ma soprattutto ancora prima di andare su pronostico.it premium vi consiglio fortemente il libro quota e scommesse calcio l'abbinamento di quota e scommesse calcio a pronostico.it premium vi permette di fare molto 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 bene con le scommesse sportive perché il pronostico.it premium è il miglior sito di pronostici ma per quanto sia il miglior sito di pronostici da solo non vi permette di vincere tutti i giorni certo ci può essere la giornata come questa che abbiamo fatto pochi giorni fa del 21 su 24 pronostici vincenti media dell'87 e 50 per cento di pronostici corretti dato con una quota alta perché 1 e 45 come quota media però è proprio l'abbinamento del libro con pronostico.it premium che vi permette di fare molto 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 bene inoltre vi ricordo che se andate qui sul libro e poi cliccate su sconto di 29 euro trovate la procedura per ottenere uno sconto mentre il libro che costa 29 euro vi viene completamente scalato dall'abbonamento quindi vi consiglio di seguire questa promozione questo è tutto più tardi farò una diretta betting exchange ricordo che in questo periodo sto facendo le registrazioni qui di questi video parlando dell'articolo di quale scommesse calcio.com sul mio canale personale youtube.com slash giulio giorgetti mentre sull'alto canale youtube.com slash betting exchange sto facendo le dirette dove vi mostro come utilizzare la piattaforma betting exchange sfruttando naturalmente gli insegnamenti di betting exchange punto it questo è tutto e a presto ciao